Primo ottobre 1928, un secolo fa, più o meno, 94 anni fa, alle ore 3.10, per cui oggi, come lei aveva desiderato, aveva chiesto, aveva previsto, muore Cecilia Oseppi, nel giorno dedicato a Santa Teresina del Bambino Gesù. Sono dieci anni, appunto accennava prima padre Sergio, dalla sua beatificazione, 17 giugno del 2012, e quest'anno sono cento anni precisi, 17 settembre 1922, che lei ha fatto la professione, la promessa nell'ordine secolare. A 12 anni, il 17 settembre, fece a Nepi la professione, si diceva allora, e cambiò, gli cambiavano anche il nome, per cui è un altro contesto, presi il nome di Sor Angela, perché è proprio sorella Angela, questo un po'. Per dire che avete, secondo me, fatto bene anche a voler focalizzare un attimo, un momento del vostro convegno, su questa vostra sorella, questa nostra sorella. Ovviamente è una ragazza non di oggi, una ragazza di cento anni fa, alcuni elementi che abbiamo già visto per Maria Inglese ritornano, perché più o meno quello è il contesto. Pensiamo che Sicilia ha vissuto, in modo diretto ovviamente, il periodo della prima guerra mondiale, 15-18, lei fa proprio in quegli anni la prima comunione, fa la cresima, e poi nel 1912 aveva fatto appunto la professione a 12 anni, a 13 anni entra anche nell'azione cattolica, perché si stava sviluppando, diffondendo molto, a livello parrocchiale, per volontà del Papa, la presenza dell'azione cattolica in tutte le comunità, e lei entra, fa parte anche dell'azione cattolica, e farà suoi quei valori propri dell'azione cattolica. La preghiera, l'azione, potremmo tradurlo per noi, il servizio e il sacrificio. Per cui, questi sono gli elementi che caratterizzeranno la ragazzina Cecilia, ma che era già grande, così spiritualmente parlando. Cecilia si ispirerà, perché è l'area che di quel tempo, l'area da punto di vista spirituale, di modelli che venivano proposti, come oggi per esempio, noi parliamo di il beato Carlo Acutis, e ne siamo tutti un po' innamorati, allora erano due le figure giovanili che venivano presentate ai giovani. Poi dopo, Santa Teresina del Bambin Gesù e San Gabriele della Dolorata. E nel suo diario, nell'autobiografia, Cecilia lo dice chiaramente, questo legame, lei beve molto della loro spiritualità, della loro esperienza di fede, la fa sua e ce la consegna poi a noi, no? E però teniamo conto che sia Gabriele della Dolorata e la Santa Teresina fanno parte di ordini religiosi. Perché? Perché allora il laicato, il movimento che poi ha dato più voce ai laici e a una santificazione dei laici, è avvenuto molto dopo. Allora per diventare santi il cammino di perfezione era quello, o ti facevi sacerdote, poi diventavi forse anche vescovo, forse papa, oppure entravi in un ordine religioso, infatti erano chiamati istituti di perfezione, di santificazione. Perciò capiamo anche il desiderio, la vocazione che lei sente, poi lo approfondiremo, vocazione che lei sente di farsi suora. Era cresciuta da cinque anni con le monache, poi vive tre anni come probanda presso le suore mantellate serve di Maria. Il suo desiderio era sempre quello, chiederà di essere vestita nel momento della morte con un vestito da suora e mantellata, ed è ancora oggi nel suo sepolcro ricoperta dell'abito delle suore mantellate. Perciò la domanda, lei desiderava diventare suora, ma per volontà di Dio è rimasta laica alla fine, perché non ha mai emesso una professione solenne all'interno di un istituto, ha fatto la sua professione, la sua consacrazione privata, personale, nelle mani del suo confessore. Però capiamo che quello era l'anelito, il desiderio dei giovani di allora, e quelle erano le due figure. E giusto per collocarla, vi leggo... Allora, qui io sono proprio l'ultimo arrivato su Cecilia, ci doveva essere padre Tito Sartori. Era lui che l'ha studiata, i suoi scritti, l'ha conosciuta, ne ha parlato, e io mi ho attinto da lui, e vi invito a farlo, perché qui c'è non solo il diario, c'è l'autobiografia, ma c'è tutta una parte iniziale, dove lui rilegge la spiritualità e il cammino di fede di Cecilia, e lo individua in sette punti. Io ne ho imprese solo cinque, anche per ridurre i tempi e semplificare. Però prima ancora di individuare questi cinque punti, lui dice chiaramente che sono tre le figure, c'è anche Santa Gemma Galgani, ma è un po' così, ai margini, come ispiratrice della vita e del cammino di fede di Cecilia. Ma fondamentalmente e principalmente c'è Santa Teresina, al punto tale che lei la chiama la sorella, la sente proprio una sorella di fede. E in quali elementi noi ritroviamo, che erano di Santa Teresina e che ritroviamo in Cecilia? L'uso di immagini floriali, il cantare la misericordia del Signore, lo sfogliare i petali per indicare i sacrifici offerti a Dio, il concetto di esilio, il grido sizio o sete presente nel cuore di Cecilia e di Santa Teresina, il voler commentare il Cantico dei Cantici, il desiderio di essere una santa, poi ancora riconoscere di essere stata oggetto di prevenzione dal male, il desiderio della sofferenza che diventa attrazione, il non considerare la sofferenza ma solo l'abbandono, il ritenere la giustizia divina rivistita di misericordia, l'avere per vocazione e l'amore. Santa Teresina, ricordiamo, e Cecilia ripeterà, ma non per ripetere alla lettera le parole di Teresina, le ha fatte sue nella sua vita, il sentirsi la debolezza in persona, il voler dipingere Gesù nell'anima, è così di seguito. Tutte espressioni di quella spiritualità che da Santa Teresina, ricordiamo che Santa Teresina verrà canonizzata nel 1925, mentre San Gabriele era stato canonizzato precedentemente, ma sempre in quegli anni in cui l'era viva, di cui erano normalmente i Santi di allora. Da San Gabriele invece prende due, almeno due aspetti importanti, la devozione alla dolorata, e l'altro aspetto, che forse almeno io non ci avevo pensato, non sapevo, la preparazione, il desiderio di ricevere Gesù e Eucaristia, proprio era presente in San Gabriele della Dolorata, il quale passava mezza giornata per prepararsi all'incontro con Gesù e Eucaristia e mezza giornata per ringraziare il Gesù che aveva ricevuto. La stessa cosa farà la Cecilia, la troviamo nel suo racconto, prepara l'altarino, aspetta che arriva il padre Gabriele Roschini che gli porta lì nella masseria dove abitava, questo negli ultimi anni della sua vita, quando è ammalata, questa Eucaristia, prepara i fiori lungo questa stradina dove venivano poi, passava il padre con Gesù e Eucaristia, e passava più di mezz'ora per ringraziare dopo aver ricevuto l'Eucaristia. Ecco, elementi che prende da altri giovani, religiosi e giovani santi. Per cui queste sono un po' le fonti, ovviamente, a parte la Sacra Scrittura, il Vangelo e Cristo. Bene, passiamo ai cinque punti. I cinque punti io proverò a presentarveli così come li ha vissuti attraverso qualche lettura di un passo di Cecilia e dal suo diario. Però poi, più che proposte per noi, come viverle oggi questi punti, cosa ci dicono a noi, ve li presento sotto forma di domande, perché secondo me lascia un po' più lo spazio a una riflessione anche personale, anche comunitaria, no? quale domanda oggi Cecilia ci pone con quel suo percorso di fede, il modo con cui l'ha vissuto, questa relazione con Cristo e così via. Sono cinque punti, ve li indico. primo punto, il nulla e il tutto. Secondo punto, il dolore, l'amore, la gioia. È un percorso di vita e spirituale che farà Cecilia. Terzo, il desiderio di Dio e l'Eucaristia. Il quarto, la devozione alla dolorata e la vocazione ad essere la dolorata. e poi ultimo, l'uniformità alla volontà di Dio che forse sta alla base poi di tutto. Questi sono i cinque punti. Brevemente vado a dire un po', a leggere quello che scrive Cecilia. Lei si riconosce il nulla, il niente, lo ripete, però quel nulla e quel niente non è una falsa umiliazione di se stessa, poca considerazione. No, lei si riconosce il nulla rispetto a Dio che è il tutto. È in relazione a Dio, in questa sua ricerca di Dio, in questa sua comunione con Dio, che lei, e poi l'atteggiamento, se vogliamo, Mariano, no? Grandi cose ha fatto in me l'onnipotente perché ha guardato l'umiltà della sua serva, per cui l'umiltà della serva, da una parte che è Maria, e dall'altra parte le grandi cose di Dio. La stessa cosa vive Cecilia. Ho riconosciuto il mio nulla, anzi ho amato il mio nulla, il mio essere nulla, perché riconoscendo me stessa ho conosciuto Dio. E questo tutto che lei riconosce non è un tutto generico, non è un'energia, forse un po' linguaggi di filosofia anche odierne, ma è una persona, è Cristo, è Dio, nella accezione più grande, ma insomma in modo particolare poi il rapporto che lei vive è con Cristo. Per cui è una persona ben precisa, quel tutto. Allora, poi ci sono anche i testi su questo argomento, ma non ve li dico, le domande, cioè che cosa, cioè questo riconoscersi piccola, Sergio parlava di persone grandi, giovani donne, ma forti, grandi, sì però riconoscendosi piccole, vivendo quella piccolezza che era proprio di Santa Teresina, che anche lei vive. E in fondo è un invito anche a noi, io credo, oggi dove l'uomo si sente quasi onnipotente, l'abbiamo sperimentato, si pensava che la scienza potesse risolvere tutti i problemi, possiamo trovare di fronte al Covid che ci ha spiazzato e ci ha fatto risentire di nuovo piccolini. Cioè noi siamo l'essere umano, l'uomo, è una piccola creatura rispetto al creato, immaginiamo poi rispetto al creatore. Per cui qual è la nostra relazione, dove ci collochiamo, come ci sentiamo? Questo in genere per gli uomini e le donne dell'umanità intera, ma la domanda ce la facciamo noi, tra noi servi, no? Quale può essere il nostro atteggiamento, il nostro modo di vedere, di relazionarci al creato? E qui si parte tutto il discorso, se volete, del rispetto di tutte le creature, dell'accoglienza di tutte le creature, del ruolo e della presenza di tutte le creature. Ma sempre in funzione al fatto che queste creature si relazionano tutte, e anche l'uomo, per quanto più grande messo al capo di questa creazione, però, si relazionano con il tutto, che è Dio. Allora qual è il mio rapporto con il creatore, no? E questo vuol dire allora creare relazioni diverse, curare le relazioni, non solo tra noi, ma con il creato, con le altre creature e con Dio. Quale le domande che poi anche la situazione che viviamo, non della guerra, ma insomma dell'inquinamento, della violenza alla creazione, quale rispetto e quale accoglienza abbiamo della cosiddetta casa comune di cui parla Papa Francesco. Ecco, allora per sentirci ed essere creature piccole, grandi, certamente per Dio, ma piccole all'interno di questa creazione. Domande che vi lascio e che vi lascio alla nostra riflessione. Secondo punto, dolore, amore e gioia, perché qui è come dire un'esperienza che è forte, certamente. Addirittura Cecilia dirà una cosa così, scrive una cosa del genere che è raccapricciante, dice Padre Tito, è veramente dice Cecilia delinea nel testo appena citato il rapporto amore-dolore con un'immagine straordinariamente efficace. Devo stemprarmi nell'amore, ossia devo nuotare nel dolore e la infatti ritiene di doversi sciogliere nell'amore, liquefarsi per così dire in esso e perché ciò avvenga considera necessario nuotare nel dolore. Il dolore riviene nel pensiero di Cecilia una specie di colate incandescente nella quale ella immerge il suo amore a Dio per divenire un tutt'uno, fermarestando la distinzione tra creatura e creatore. Allora, se c'è qualcosa che ci unisce a questo creatore, primo punto, nella relazione tra creatura e creatore, è l'amore. E soltanto se tu ami sei disposto anche a soffrire e vivi l'amore, anzi, ti immergi in questo amore perché vuoi unirti all'amato. E allora capiamo che giustamente il Padre Tito dice è raccapricciante per noi oggi, una cultura di oggi, presentare un percorso di fede di questo tipo, cioè abbracciare la sofferenza di qualsiasi tipo dalla quella fisica, morale, spirituale, è faticoso insomma proporre questo, abbracciare la croce, ma in fondo è il Vangelo, chi vuole essere mio discepolo prenda la sua croce. Ecco, allora Cecilia lo fa solo e soltanto per amore, per piacere o compiacere al suo Cristo, al suo Gesù. Lo fa per amore e poi addirittura fa un altro passo ovviamente nel suo cammino di solo 18 anni. Teniamo conto che ha vissuto solo 18 anni, muore il primo ottobre del 1928, nata il 17 febbraio del 1910. In 18 anni fa un cammino enorme di discepolato, perciò poi è riconosciuta abbracciata. Ponto tale che lei unendosi in questo amore a Cristo si sente lei stessa unita a Cristo per cui si offrirà come vittima crocifissa. Questo è il termine che lei stessa utilizzerà. Mi sembra che la mia direzione o meglio dedizione sia perfetta. Mi sono venduta, donata tutta a Gesù. Gli ho sacrificato le gioie, le speranze e i sogni tanto cari, affetti, salute ed esistenza. Non mi sono ridotta che una vittima crocifissa. Quanto sono felice. Allora, si dichiara vittima crocifissa per cui nel momento degli ultimi due anni della sofferenza ma termina dicendo quanto sono felice. E allora il terzo elemento dolore, l'amore, la felicità, la gioia che per noi è assurdo perché o parli di gioia o parli di dolore nella nostra anche cultura di oggi attuale come fai a proporre uno appunto prendi il dolore e vivi il dolore come momento e occasione di gioia e di felicità chi accetterebbe un discorso così invece Cecilia lo fa perché per lei è la stessa cosa il dolore per lei si trasforma in gioia perché se è fatto per amore di qualcuno in questo caso Cristo le porta e le procura gioia e la gioia gioisce di questo dolore per cui la gioia diventa dolore è uno scambio notevole le domande appunto che mi venivano e che mi facevo se questo dolore non lo abbracci non lo non navighi dai dici per cui ti immergi in questo dolore non lo vivi come anche come offerta la vittima crocifissa che lei si sente di essere questo dolore rimane solo dolore ed è impossibile impensabile accettarlo lei lo accoglie e questo è l'insegnamento che ci lascia per amore al punto tale da diventare occasione di gioia ma la gioia del cuore la gioia profonda ovviamente non la gioia che ci dà questo mondo no e è un linguaggio duro ma in fondo questa è la proposta che Cecilia fa allora anche noi di fronte alla nostra esperienza di dolore la domanda è come lo vivo di fronte all'esperienza di dolore dell'altro anche dell'innocente come la osservo come la valuto la domanda cioè quello diceva stamattina anche padre Riccardo non possiamo dire dov'è Dio perché forse proprio là c'è Dio Cecilia ci dice questo che proprio nel dolore lei per amore ha portato avanti quella sofferenza l'ha dovuto accettare perché è stato un cammino non è che è subito dall'inizio nel momento della sua malattia lei all'inizio sperava nella guarigione ha tentato di venirne fuori però dopo ha capito che l'unica strada era quella di abbracciare quel dolore perché là c'era il suo amore e allora forse anche noi dovremmo avere una visione diversa sulla sofferenza sul dolore perché lì c'è il nostro amore però domande così che lascio terzo punto legato un po' a questo c'è la devozione all'addolorata e la vocazione a vivere come l'addolorata allora lei da bambina nel monastero lì delle monache cistercense c'era una statua della pietà ma anche il tema l'icona che avete scelto per il convegno e la pietà e sarà l'immagine tra le sette della via crucis della corona dell'addolorata via crucis se non c'era ancora nella corona dell'addolorata è quella sulla quale Cecilia si soffermerà di più sempre anche il suo diario lo termina contemplando l'immagine di Maria che ha tra le braccia il figlio per cui è la pietà quella che ha colpito di più neanche Maria sotto la cruce ma è la pietà e lei l'aveva vista lì da bambina aveva paura poi ha imparato così a nascondere si dice l'autobiografia sotto questa sotto il manto della dolorata ci giocava quasi un po' poi diventa attraverso anche l'esperienza di San Gabriele abbiamo detto questa devozione il pregarla l'invocarla però pian piano soprattutto sempre negli ultimi anni di vita quando ha cominciato la sua malattia ha fatto un percorso di la devozione per cui la preghiera l'intercessione che il nostro ispirarci alla Vergine dei dolori la domanda è per noi questa lei l'ha portato a pienezza anticipando quello che oggi dal Concilio Vaticano secondo le nuove Costituzioni dell'Ordine nella conclusione dicono che i servi di Maria ora lì è per i frati ma vale per tutta la famiglia dei servi siamo chiamati a essere sotto la croce sotto i crocifissi dove il figlio di Dio ancora oggi è crocifisso come Maria stare lì fare continuare l'esperienza della dolorata noi questa volta tutto il discorso della compassione della compartecipazione al dolore del figlio di Dio come lo è stato per Maria e come lo è stato per Cecilia lei percorre tutto questo fa tutto questo passaggio dalla preghiera all'invocazione alla mammina passa poi a chiedere a Maria dell'espressione una delle più belle che Cecilia utilizza di stare sotto la croce e chiede a Maria che è il suo cuore lei la chiamo il cuore mentre Gesù è il suo tesoro chiede a Maria il suo cuore di spogliarla giorno per giorno come petali di un giglio sotto la croce del suo tesoro per cui spogliarsi vuol dire annientarsi annullarsi condividere a tal punto la morte del figlio di Dio da farlo suo come è stato il dolore di Maria ecco allora da una devozione passata alla partecipazione del dolore di Maria e questo è quello che poi noi diciamo ci diciamo spesso che non è soltanto una devozione il nostro guardare alla addolorata la donna dei dolori ma è soprattutto metterci noi accanto a quel crocifissi di oggi e la domanda quali sono i crocifissi di oggi dove io personalmente come terziario o noi come fraternità dove ci collochiamo sotto quale croce quali crocifissi avviciniamo le domande sono queste tante quarto spunto il desiderio di Dio e l'eucarestia non leggo i passi perché si allungherebbe il tutto ma dicevo il desiderio dell'eucarestia che nasce da questo aver letto la biografia di San Gabriele questa preparazione lunga e questo ringraziamento lungo che viveva San Gabriele lo fa suo c'è un desiderio di di Gesù e l'eucarestia notevole forte intenso da parte di Cecilia già da la piccolina poi anche quando accompagnerà nell'esperienza di suora o probanda delle suore mantellate avrà da accudire i bambini e riporta li piglia in braccio li mette vicino al tabernacolo e parla con quel Gesù e l'eucarestia e lo presenta ai bambini in questo modo diretto semplice e poi il desiderio perché e quando non potrà più farsi la comunione andare tutti i giorni a messa e dovrà aspettare quelle due volte in genere alla settimana che il padre Gabriele o un altro padre dei serbi di Maria le portassero Gesù e l'eucarestia per cui lei sperimenta anche dalla parte un desiderio intenso di nutrirsi di Gesù di fermarsi a pregare davanti al tabernacolo per cui però poi deve fare anche l'esperienza del desiderio lei dice sacrificato nel senso che viene offerto perché un desiderio che non viene soddisfatto perché non sempre può ricevere l'eucarestia e allora trova tanti modi per sopperire a questo fa l'adorazione da lontano dalla massa dalla masseria pensando e guardando e ascoltando le campane della nostra chiesa del rosario a Nepi allora questo desiderio mi faceva venire una domanda a me e a noi ve la condivido quale desiderio mi porto nella mia vita perché là dove c'è il tuo desiderio c'è il tuo cuore là c'è il tuo tesoro Cecilia aveva questo desiderio dell'eucarestia perché c'era il suo tesoro e aveva desiderio di incontrarlo di nutrirsi di quel tesoro qual è il desiderio di noi oggi il desiderio dell'uomo di oggi cosa ci aspettiamo cosa vogliamo cosa cosa ci manca perché il desiderio è desiderio di qualcosa che non hai probabilmente cerco qualcosa che non è il tesoro di Cecilia oppure se mi porto dei desideri profondi di una vita che abbia più senso che abbia più profondità dove li cerco come mi metto alla ricerca per cui siamo chiamati a una continua ricerca un continuo suscitare in noi questo desiderio che poi in fondo non è altro che il desiderio di Dio ultimo punto e così finisco è la dicevo l'uniformità alla volontà di Dio che poi soggiasce se vogliamo a tutto a tutta questa relazione che Cecilia ha con con Dio lei all'inizio vi dicevo prima pensa di diventare monaca di clausura perché ha vissuto da ragazzina 5 anni fino a 12 anni è rimasta lì per cui pensava desiderava essere monaca poi ha capito che invece voleva diventare suora serva di Maria Mantellata per le relazioni che aveva avuto con i frati ovviamente che erano vicine al monastero e quant'altro poi però ha visto sfumare sia l'una che l'altra vocazione erano le sue desideri la sua volontà che tante volte non coincide i suoi progetti possiamo dire che non coincidevano non hanno coinciso con il progetto che Dio aveva su di lei Dio la voleva laica fino in fondo fino alla fine però con un percorso che passava attraverso il dolore attraverso la croce ma che poi l'ha portata a una altezza e una profondità nello stesso tempo di vita di spiritualità non intesa spiritualità così che diventa un vestito messo addosso ma di una profondità lei viveva profondamente tutto quello che è maturato in quei due anni soprattutto quando poi la malattia all'inizio dicevo l'aveva rifiutata sperava di superarla perché voleva diventare a tutti i costi voglio morire pur di non tornare a casa perché voleva diventare rimanere suora voleva rimanere in convento ma dovrà fare i conti con la volontà del Signore che era diversa aveva un altro progetto e si è fatta in questo percorso di approfondimento della volontà di Dio per poterla fare proprio perché se non comprendi non c'è un discernimento di quale è la volontà di Dio non puoi fare la tua e le difficoltà incontrate soprattutto la malattia e la sofferenza e poi l'abbandonarsi fidarsi ciecamente del suo padre spirituale per cui consegnarsi se vogliamo a quello che è una figura certamente importante il padre spirituale è sempre nella Chiesa accompagnato delle anime alle persone diciamo ad approfondire e a discernire nella volontà del Signore ma che rappresenta la Chiesa se vogliamo il padre spirituale in quel caso era a nome della Chiesa che ha guidato perciò questo abbandono anche alla Chiesa al discernimento vissuto all'interno della Chiesa attraverso passando vi dicevo attraverso il dolore e allora la domanda anche per noi noi facciamo progetti noi costruiamo noi organizziamo giusto ma probabilmente dovremmo sempre di più lasciarci guidare attraverso anche i no che vengono dati e vengono detti alla nostra vita gli ostacoli le difficoltà ci mettono in crisi ci spiazzano ci buttano veramente anche per terra ma quelli sono i momenti dove non te ne rendi conto ma lì stai crescendo stai approfondendo se ti metti alla ricerca del vero tuo tesoro nella tua vita e termino con questa frase dove Cecilia esprime qual è la sua missione ricordiamo Santa Teresina sceglie la mia missione essere nella chiesa quel cuore quell'amore Cecilia lo articola di più ma in fondo dirà diciamo le stesse cose la missione che io ho scelto di raccogliere è quella di raccogliere le lacrime della mammina è dolorosissima lo so dovrò mischiare le mie lacrime alle sue la partecipazione all'essere Maria la salvezza delle anime costa è costata a Gesù il sangue alla Madonna e tutti quelli che si uniscono ad essa il sangue del cuore costi quel che costi la mia missione è troppo bella amo troppo Gesù e la Madonna per lasciarmi spaventare dal dolore e poi sono sicura di superarlo il dolore poiché non confido nelle mie forze poiché non ne ho ma confido pienamente in Gesù che è la mia fortezza e il mio tutto capite c'è proprio la sintesi di quello che è stata la vita di Cecilia dove unita a Maria e a tutti coloro che si sono uniti a Maria in questa partecipazione del dolore del figlio ma un dolore che lei sa benissimo che umanamente non può sopportare ma lo sopporta perché confida si è abbandonata in colui che è il tutto lei che era il niente e con queste frasi io termino più o meno ci sono stato nel mezz'ora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti